SIGLA Vedete quello? Sono io. La mia scusa per andare in giro così? Faccio lo scrittore. Eddie, forse è il momento di smettere di scrivere. Ma se pensate che non mi sia successo niente... Eddie Mora! Ciao! Parlami del tuo libro. Quanto hai scritto fino ad ora? Neanche una parola. Ho una cosa che potrebbe aiutarti molto. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Questa ti permette di usarlo tutto. Hanno fatto le sperimentazioni, è un farmaco approvato. D'accordo, è solo una curiosità e nient'altro. Prima ero cieco, ora vedevo. Una pillola al giorno e non avevo limiti. Adesso però volevo altro. Da quando parli francese? Finì il mio libro in quattro giorni. Vorrei rinegoziare il mio anticipo. La matematica diventò utile. Da 12.000 a 2 milioni in una settimana. Sono veramente stupito. Allora, Eddie Mora. Lo sai che sei un mago? Qual è il tuo segreto? Le medicine. Le tue capacità sono un dono di Dio, non ci sono dubbi. Ti darò tutto. Potrai fare quello che vuoi. Quanti di noi sapranno mai che cosa significa essere perfetti? Quanto costa? 12 milioni. La compro. Dividerò con te tutto quello che ho. Che stai facendo, tesoro? Pensi che qualcuno ci guardi? Il mio cervello brucia il tempo. Non ho memoria degli ultimi quattro giorni. Non ti sei guadagnato le tue capacità. Ci farai uccidere. Sai che farai quando tornerai normale? Morirai. Non c'è nessuno scenario in cui conduci questa vita. Tu non lavori per me. Nessuno scenario. Io vedo ogni scenario. Vedo 50 scenari. Quella cosa mi mette 50 mosse davanti a te. Vale il rischio. Voi che fareste? Voi che fareste?